Bella a tutti ragazzi qui è giocatore sante e ben ritrovati nel mio canale oggi siamo qui con un nuovo episodio sulle build battle Questa volta ragazzi non sono da solo ma giocherò insieme a voi infatti come ho detto nell'ultimo episodio di minecraft Oggi diciamo ho fatto un piccolo raduno su questo server che si chiama l'Hellcraft appunto su minecraft per giocare le build battle insieme a voi Quindi appena troviamo una stanza ragazzi possiamo entrare Come sempre invito a lasciare un bel like ragazzi per supportare al massimo questa serie sulle build battle Le fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete che io faccia diciamo ogni tanto questi piccoli raduni sul server per giocare tutti quanti insieme Ecco qua ci siamo ragazzi siamo nella stanza e finalmente siamo entrati abbiamo aspettato un po' perché erano tutte quante pieni Infatti in due secondi si è riempito tutto e siamo già in dodici Secondo me ragazzi eravate in più di dodici ad aspettarmi quindi qualcuno non è capitato con noi Comunque tema pantofola Allora una pantofola ragazzi direi di farla grigia Quindi dice partiamo così Allora la facciamo bella grande perché secondo me non dovrebbe essere tanto lunga da fare O no abbiamo anche 6 minuti in totale quindi secondo me possiamo farcela Fare una cosa anche fatta bene Quindi questa qui dovrebbe essere tipo la base della pantofola e poi sopra dovrebbe essere realzato Tipo ragazzi possiamo fare che questa qui sia la punta della pantofola e qua diciamo inizia a crescere diciamo tra virgolette E c'è lo spazio diciamo dove uno può mettere il piede Se riesco ragazzi faccio anche il piede Allora vediamo un po' Questa perché in teoria ragazzi una pantofola dovrebbe essere già finita così O no che uno mette il piede e questa qui dovrebbe essere la pantofola Forse l'ho fatta un po' troppo bassa Io direi di alzare di un altro blocco Allora questa qui ragazzi potrebbe essere la nostra pantofola Una schifezza di pantofola però forse ci sta Però le pantofole ragazzi hanno la punta non sono così Quindi io devo farla scendere diciamo questa pantofola E la facciamo scendere così Una sorta di punta ragazzi che è venuta abbastanza male Però almeno facciamo che scende Potrebbe essere una pantofola questa? Assolutamente no Però visto che dobbiamo fare qualcosa di meglio diciamo Io provo a farci ragazzi anche il piede E il piede naturalmente arriva fin dentro la pantofola Ok così questo qui dovrebbe essere il piede Orribile ragazzi veramente orribile Ragazzi proviamo a fare anche una sorta di pantalone Tanto per abbellire un po' il tutto Se ci riesco ragazzi ne faccio un'altra identica Vediamo un po' ragazzi ci provo eh ci provo 14 secondi 10 secondi non ce la farò mai Perché devo anche farla scendere qui Non ce la farò mai No no ragazzi no non è giusto non ho finito Non l'ho finita ragazzi non l'ho finita Accidenti Vediamo un po' che cosa avete fatto voi ragazzi Allora questo qui dovrebbe essere una pantofola No ragazzi non mi piace Vediamo un po' che cosa ha scritto Grande giude 360 Grazie mille Il prossimo è di Nico87 che ha fatto una cosa strana Che non so a che cosa somigli Ma di certo ragazzi non ha una pantofola Il prossimo è di Mr. Jake Vediamo un po' che cosa ha fatto Uh questo ha fatto una pantofola Ha fatto la gamba Bella potevo usare questo colore per fare la gamba Accidenti Comunque la pantofola è carina ragazzi Ti do un ok Questo qui ragazzi ha fatto due pantofole storte Boh ti do brutto dai Non ti voglio dare bruttissimo Ti do brutto Questo ragazzi io sinceramente non lo capisco Cos'è Cioè se non capisco nulla ragazzi Mi dispiace Voto bruttissimo Non capisco cos'è Questo di Axeman 01 Vediamo un po' che cosa ha fatto Questo qui delle pantofole Più o meno la stessa mia idea Sono pantofole belle grandi qui Non credo che un piede abbia questa forma Anche un po' aperta Adesso a sinistra Comunque ti do un brutto Ecco il mio ragazzi Guardate qua ragazzi Cioè io ho fatto le due pantofole Ho fatto anche i piedi dentro Con una sorta di pantalone In confronto agli altri Che hanno fatto queste cose Cioè questo qui ha fatto addirittura Anche i lacci Ha fatto anche gli occhi Questa pantofola c'ha gli occhi Questa ha fatto una scritta Giuse 360 Grazie mille Vediamo cosa è scritto Ciao Giuse Non riesco a leggere Giuse se un grande continua così Io la pantofola non la so fare Va bene Lui invece ha fatto una pantofola Strana Molto molto strana Ma questo piede è un po' corto Devo dire la verità Una gamba enorme E poi un piede tutto tagliato Potevi farlo un po' più lunga Comunque ti voto bruttissimo Mi dispiace 888 Questo ha fatto il pavimento bianco Non capisco perché E poi ha fatto questa specie di pantofola rosa E non capisco che cosa siano questi buchi Vincitore ragazzi Mr. Jake ha vinto questo Io sono arrivato secondo Con 37-37 Quindi a pari punti con Mr. Jake Ha vinto questo qua Ci sta ragazzi Perché comunque ha fatto La gamba fatta bene Quindi ci sta E adesso ragazzi Andiamone subito A farne un'altra Eccoci qua Ci siamo ragazzi Siamo di nuovo in partita Ho beccato di nuovo qualcuno di voi Giuse dovevi vincere tu E vabbè Mi spiace Va bene così ragazzi Mi accontento del Del secondo posto La prima partita ragazzi Diciamo che sarà di riscaldamento Adesso Ci rimbocchiamo le maniche E farò ragazzi Un capolavoro Giuse stai registrando? Sì sto registrando Naturalmente però Io devo scriverlo Perché se parlo Ve non mi sentite Ci siamo ragazzi Ci siamo Eccoci qua Vediamo un po' Lavatrice Ragazzi sarà la quarantesima volta Che mi esce la lavatrice Ormai sono un esperto di lavatrici Questa volta però ragazzi Sono pronto Useremo il blocco di ferro La lavatrice ragazzi È un po' alzata da terra Oppure no Non la facciamo alzata da terra Questa volta Rispandiamo un po' Di tempo E partiamo subito ragazzi Velocissima a fare La nostra amata Lavatrice Questa volta ragazzi Ho già in mente qualcosa O meglio come farla Quindi partiamo subito sparati Ok io direi ragazzi Che il contorno Diciamo tutta quanta La lavatrice La scatola della lavatrice È fatta Allora io direi di provarla A fare ragazzi Tipo a cerchio Quindi usiamo il vetro E facciamo così Mettiamo un blocco qui Poi due di vetro E poi di nuovo qui Così cerchiamo ragazzi Di dare un'idea A cerchio Tra virgolette Perfetto Questo qui dovrebbe essere Lo specchio ragazzi Iniziale della lavatrice Adesso andiamo ragazzi A curare i dettagli Allora io innanzitutto Vorrei fare un accendi e spegni Qui quindi Useremo due bottoni Uno verde E uno rosso Per l'accendi e spegni Della lavatrice Anche se non è proprio così Poi Qui ragazzi Ci metteremo diversi bottoni Quindi andiamo a prendere i bottoni Eccoli qui E li mettiamo lungo Tutto quanto Lo specchietto Diciamo della lavatrice Perfetto Poi un particolare ragazzi Che voglio assolutamente mettere È l'acqua All'interno della lavatrice Quindi prendiamo il nostro secchietto D'acqua E andiamo a mettere Tutta quanta acqua Qui dentro Sto affogando nella Nella lavatrice Ok Perfetto ragazzi Ci siamo Ora usciamo da qui E chiudiamo La nostra lavatrice E in teoria L'acqua dovrebbe essere Inserita all'interno Perfetto ragazzi Perfetto Quindi Io direi che questa qui Potrebbe essere Una lavatrice accettabile Forse un po' troppo Bassa E forse Se l'avessi fatta Di un blocco più alto Sarebbe venuta più bella Però vabbè Ragazzi Non fa niente Che cosa altro posso aggiungere Ragazzi Una lavatrice Ragazzi Non lo so A me non mi viene in mente Niente da aggiungere Sinceramente Perché che cosa Di fianco non ha niente Qui c'è un piccolo sportello Però come lo faccio Lo sportello Sto pensando a qualcosa Però effettivamente Che cosa posso aggiungere A una lavatrice Da va bene così Ormai manca poco Quindi è anche finito Quindi va bene così Il primo Nico87 Vediamo un po' Che cosa avete fatto voi Allora questa qui È una lavatrice tutta chiusa Non c'è niente Non ci credo Ah ecco qui Un po' con lo specchietto Praticamente quasi la stessa cosa Abbiamo fatto Mancano i bottoni Che sono quelli che ho messo io Però dai va bene Più o meno ci siamo Questo qui invece ha fatto Oh Questo potevo farlo ragazzi Tipo la Il filo attaccato Potevo farlo Questo qui dovrebbe essere avanti No però ha fatto uno specchietto brutto Hai avuto l'idea bella Diciamo di fare Questa cosa dietro Però poi dopo Ti sei rovinato Con questa cosa che fa schifo Però non ho votato Accidenti Questo qui invece ha fatto Lo specchio Ecco qui Il portellino Che volevo fare io Eh tu sei stato Abbastanza bravo Eh amico mio Ti do un ok Dai sei stato bravo Cubi 58 Vediamo un po' che cosa ha fatto Ha messo dei cartelli Vediamo un po' che c'è scritto Time Il tempo Bello Eh anche il tono è male Però nella lavatrice Non c'è lo specchietto Della lavatrice Ecco il mio ragazzi Forza su con i voti Su con i voti ragazzi Forza Guardate qui Epico eh Sei magari epico Diciamo che è accettabile ragazzi Dai è accettabile Un ok Io mi voterei ok Se fossi in un altro Luca Bell Questo qui ha fatto più o meno la mia stessa cosa Però io ho fatto Lo sportello più grande Poi ho fatto più e più bottoni Dai ti do un ok E buttiamo la via così Alle zanna Vediamo un po' che cosa hai fatto Hai fatto una lavatrice al contrario Però questo qui è lo sportello Più o meno l'abbiamo fatta identica E non capisco che cosa siano queste cose Perché di solito I cosi che mantengono la lavatrice Stanno sotto Però comunque dai ti do un ok Questo invece ha fatto una lavatrice aperta Assolutamente no Non mi piace ragazzi Non è finito Tutto aperto qui Con tutta l'acqua così a caso Il tempo c'era ragazzi Per fare una lavatrice Almeno come l'ho fatta io E come l'hanno fatta praticamente quasi tutti Quindi non accetto queste cose non finite Perché avevamo 6 minuti Sono arrivato secondo Ancora E ha vinto questo Perché ha vinto questo Spiegatemi che cosa ha questo In più del mio Ci siamo ragazzi Siamo in partita Sì ci sono alle zanna Ci sono E' troppo bello ragazzi Giocare con voi Tema robot No ragazzi Robot è difficilissimo Come lo faccio un robot Allora Un robot è fatto di ferro Questo è sicuro Però sarà sicuramente dei blocchi Di lana neri O anche grigi Quindi useremo l'argilla Tipo per fare i piedi Quindi ragazzi cosa facciamo Io direi di fare i Le I piedi del robot Che sarebbero questi qui E poi tutto il resto ragazzi Lo facciamo bianco Questi qui sarebbero i piedi del robot E poi qui inizia il robot Non facciamo una cosa ragazzi Eccessivamente grande Perché Sapete che dopo non ce la faccio a concludere Però ragazzi volevo fare Tipo le articolazioni Diciamo di un colore diverso Adesso vediamo se riesco a fare qualcosa Di fatto bene E' venuta un'idea ragazzi Tipo se le faccio così A pinze Tipo che cosa dite Tipo come bender Tipo così ragazzi No così è bello Così è bello No che dite Ci sta La testa del robot ragazzi E' tipo Ha un collo strano il robot Giusto C'ha un collo tipo così E poi qui parte la testa del robot Ha un collo strano Credo Qua ci facciamo partire alla testa Ragazzi E questa qui è la testa Quindi a questo punto direi Di farci gli occhi neri Visto che non c'è tempo ragazzi Di curare i dettagli Facciamo gli occhi così Chiudiamo qui E ci facciamo tipo un'antenna sopra No Non ce la faccio di un blocco Non è giusto Volevo fare l'antenna di un colore diverso Non ce la faccio di un blocco Vabbè dai la faccio così Il robot Abbiamo un minuto Dai veloci Veloci ragazzi Veloci Sempre in ritardo Sempre in ritardo sono Allora Facciamo così La bocca come la facciamo La facciamo aperta Tipo così Ci sta così Ci sta Va bene Ragazzi guarda il mio robot Oddio Poteva venire sicuramente meglio Un minuto Che cosa posso migliorare Le orecchie Le orecchie Veloce 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 Vero 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 Tipo che non sono proprio orecchie Ma sono tipo cose così Che possiamo mettere da una parte E dall'altra Dai ci siamo ragazzi Boh Non lo so Non lo so Ho fatto un po' Dai ci ho provato Se avevo più tempo Mettiamo anche qualcosa in mezzo Allora questo Vediamo un po' Questo è un robot No assolutamente no Assolutamente no No ragazzi Queste cose no No mi dispiace Ma non sono accettabili Questo pianura Uh questo ha fatto qualcosa di bello Ha fatto i ganci Come avrei voluto fare io E come li ho fatti anche È accettabile Dai ti do un ok Kami123 Ha fatto questa cosa qui Uh che spara Mamma mia Questo è bello Il robot che spara Questo invece ha fatto un topo Non ha fatto un robot Ecco il mio ragazzi Su Su con le critiche Su con i voti Ecco il mio robot Questo invece ha fatto Un pavimento d'acqua Che non so perché E poi ha fatto un qualcosa di strano Con un cartello Con cui non c'è scritto niente Con cui c'è scritto Robot E certo È giusto specificarlo Perché questo essere Sembra tutto Tranne che un robot Stessa cosa per questo ragazzi Che non so che cosa Abbia fatto No ma secondo me Ha vinto Quello lì che ha fatto Tipo che sia il robot Spara Quello lì veramente ragazzi È inarrivabile Questo è bello ragazzi Questo è bello Ti do un ok Questo ragazzi È un robot un po' obeso Non si capisce bene Che cosa sia Questo invece ha fatto Un robot Ok ci sta come robot Si capisce che è un robot Bella l'antenna Gli occhi Poteva fare qualcosa in più I colori lì Ah ti do un brutto Non un bruttissimo Ho vinto Si ragazzi Si Ce l'ho fatto Grazie mille a tutti ragazzi Per avermi votato Quindi ragazzi Per questo episodio è tutto Io spero veramente Che il video vi sia piaciuto Io mi sono divertito tantissimo A giocare con voi Fatemi sapere qui sotto nei commenti Se volete fare qualche altro Piccolo raduno Diciamo Nei server su Minecraft Io davvero Li faccio volentieri Perché Mi sono divertito veramente tanto Ringrazio tutti quelli Che mi hanno aspettato sul server E con cui sono riuscito a giocare insieme Purtroppo non sono riuscito a giocare con tutti Perché non siamo solo noi nel server E quindi È normale che magari Quando entriamo nella partita Qualcuno rimanga fuori Soprattutto la prima partita Che abbiamo fatto sulle Big Battle Eravate in più di 12 Che mi stavate aspettando E quindi non siamo riusciti A giocare tutti quanti insieme Però comunque Mi sono divertito veramente tanto Siamo riusciti a vincere L'episodio Una partita con le Big Battle Quindi veramente ragazzi Non vedo l'ora Di giocare un'altra volta insieme a voi Quindi noi ci vediamo Con un prossimo video Bella Ciao 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 Ciao